buongiorno buonasera simmers io sono alessandra e questo il mio canale youtube mi raccomando se non lo avete ancora fatto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere le novità se li avete persi andate anche a guardare i primi tre tutorial benissimo andiamo oggi ad arredare la giorno oggi vi farò vedere quindi come arredare la zona giorno con qualche decorazione fai da te e vedrete anche quindi come suddividere gli spazi senza che l'ambiente risulti enorme o troppo piccolo andremo per prima cosa a posizionare le scale che spesso diventano il dilemma un po del costruttore allora vediamo quindi adesso cominciamo subito vediamo come suddividere gli ambienti senza mettere pareti e la prima cosa che faremo quindi è andare a posizionare le scale ok allora prendiamo la nostra casettina attiviamo la griglia così vi aiuta un pochino di più allora come vedete abbiamo questo grandissimo ambiente dobbiamo scegliere dove posizionare le scale allora io diciamo che ho già in mente ovviamente guardando diciamo la planimetria dove posizionare le scale e dove posizionare gli altri ambienti questo perché perché ovviamente dopo un po di tempo che si costruisce il colpo d'occhio è immediato allora innanzitutto andiamo a scegliere le scale poi vi farò vedere anche dove posizionarle scegliamo queste di vita in campagna queste ok ve le piazzo qua in mezzo così ve le metto qua in mezzo così vi faccio vedere il menu diciamo delle scale quindi come quindi come possiamo girarle e sistemarle perché possiamo metterle in vari modi allora mettiamole qua in mezzo come vedete abbiamo le nostre scale e un picco il piccolo menu e delle frecce allora il menu è come quello delle stanze che abbiamo visto nel primo tutorial quindi abbiamo lo spostamento delle scale possiamo ruotarle qua vi da anche il il suggerimento da tastiera quindi potete usare anche il tasto della tastiera punto o virgola a seconda di dove le dovete girare e poi abbiamo copia quindi se vogliamo fare lo stesso tipologia di scale piazzarla da un'altra parte possiamo tranquillamente copiarle poi abbiamo le frecce posizionate sulle scale cosa ci fanno fare queste frecce ci fanno raddoppiare triplicare cioè ingrandire le scale o rimpicciolirle ovviamente a 1 il massimo quindi sia di qua che di qua ovviamente poi abbiamo queste altre due frecce qui grandi cosa ci permettono di fare ci permettono di ruotare la scala così o ancora in questo modo poi abbiamo questa freccia che alza e abbassa il pianerotto lo vedete abbiamo abbassato ma lo possiamo alzare in questo modo e abbiamo le frecce curve che ci permettono di ruotare ulteriormente la nostra scala in questo modo qui eccole qua le nostre scalette adesso non le andiamo a prendere le spostiamo con il tasto punto le giriamo e andiamo a posizionare io le posizionare io le posizionerò in questo punto qui non mi importa se stanno davanti alla finestra tanto sono finestre piccole quindi comunque al di fuori non si nota tantissimo quindi le piazzo in questo modo anche il muro non non vi preoccupate perché adesso vi faccio vedere una cosa quindi una volta scelto il posizionamento delle scale ovviamente ragazzi bisogna sempre scegliere le scale nello stile della casa perché comunque se vogliamo seguire una certa storia dobbiamo per forza insomma adattare anche le scale al resto dell'ambiente adesso andremo a circondarle con delle pareti vi faccio vedere come prendiamo il nostro andiamo nel nostro menu muri e stanze vuote prendiamo lo strumento muro e andiamo proprio a circondarle quindi una parete qui una parete qui e una parete qui non vi spingete fino alla fine perché vedete diventa giallo poi ovviamente il sim non passerebbe e vi elimina le scale e la finestra quindi vi fermate qui in questo modo e avete messo e anche qui mettiamo una parete in questo modo ecco qui abbiamo diciamo il nostro vanno scale l'abbiamo creato con lo strumento contagoccia andiamo a prendere lo stesso rivestimento sempre mi raccomando per stanza in questo caso visto che abbiamo deciso di mettere un rivestimento unico per tutta la casa in modo che così facciamo anche un po prima in questo modo così e abbiamo quindi posizionato le nostre scale adesso dobbiamo sottividere il resto dell'ambiente non vi spaventate perché c'entra tutto c'entra la cucina la sala da pranzo e il salotto allora per prima cosa dobbiamo assolutamente inserire una porta per permettere al sim di uscire sul patio nel patio posteriore quindi andiamo a prendere la stessa porta che abbiamo posizionato per il balconcino in modo che così rispettiamo lo stile scelto con il tasto alt della tastiera aiutatevi ecco la posizionate proprio qua in mezzo ok in questo modo perfetto adesso per delineare gli spazi andiamo proprio a posizionare tutti quanti i mobili in modo che così ci ritroviamo la stanza finita e dovremmo solamente poi aggiungere le decorazioni diciamo che questo è anche un modo per velocizzare un pochino tutta la costruzione quindi andiamo a scegliere innanzitutto lo spazio per la cucina e io la posizionerò qui dietro le scale perché al contrario di quello che si pensa la cucina non deve essere necessariamente enorme ma in generale diciamo tutto lo spazio che abbiamo in The Sims non deve essere enorme e quindi diciamo che questa dimensione per la cucina ci può bastare adesso andiamo a posizionare i mobili per la cucina e ovviamente sempre andandoli a scegliere rispettando lo stile questo io ve lo ripeto in continuazione perché è molto importante quindi scegliamo uno stile che abbiamo detto sia 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 rustico ma che può avere anche delle influenze dallo stile industriale proprio perché la tipologia che abbiamo deciso di adottare insomma lo stile che abbiamo deciso di adottare per questa casa è uno stile fattoria moderna e abbiamo già detto nello scorso tutorial che la fattoria moderna ha delle influenze dallo stile industriale quindi molto ferro, molti oggetti appunto industriali quindi scegliamo, io scelgo questa tipologia di bancone lo metto bianco e vado proprio a posizionare i banconi in questo modo scegliendo le possiamo ruotare sempre con il tasto punto due punti della tastiera allora ricordiamoci una cosa fondamentale nella cucina dobbiamo posizionare il lavello, il forno, la lavastoviglie e il piano cottura e il frigo ora io qua mi lascio uno spazio per il frigo quindi non andrò a mettere un altro bancone mentre qui proseguirò un pochino in questo modo allora vado a scegliere prima di tutto il frigo ok mettiamo questo qua che è molto carino giro la visuale in questo modo giro il frigo con alt posso muovermi liberamente sulla griglia e quindi posizionarlo dove più mi piace mi raccomando ricordatevi sempre questa cosa di comunque posizionare il frigo e i vari elettrodomestici perché altrimenti poi magari create la cucina e nel momento in cui dovrete andare a posizionare gli elettrodomestici non vi ritrovate si può sempre tornare indietro assolutamente ma perché fare il doppio lavoro quindi andiamo a posizionare il resto dei banconi io per questa piccola cucina vorrei mettere non l'isola centrale perché altrimenti non garantirebbe il passaggio per il sim e oltretutto mi andrebbe a influire sul resto dello spazio ma mettiamo invece una piccola penisola per tre persone visto che comunque gli abitanti della casa saranno tre allora andiamo a posizionare il resto dei banconi in questo modo ok ci fermiamo qui prendiamo i banconi per l'isola in questo modo qui e li andiamo a posizionare qua ok quindi abbiamo già delineato lo spazio che ci servirà per la nostra piccola cucina piccola ma funzionale adesso andiamo a posizionare tre sgabelli anche qui mi raccomando scegliete ovviamente degli sgabelli che non siano troppo differenti dallo stile né troppo ovviamente invasivi quindi troppo grandi io voglio scegliere questi qua in legno no questo colore qua mettiamo molto semplici in questo modo ok praticamente avete già delineato tutta la cucina andiamo adesso a posizionare i pensili superiori e li metteremo questa volta di un altro colore in modo da movimentare un pochino l'ambiente quindi torniamo in superfici armadietti e andiamo a prendere quelli della stessa serie e scegliamo questo colore non troppo scuro in questo modo allora prima l'angolo si parte sempre dall'angolo ragazzi poi andiamo a posizionare gli altri armadietti così sopra il frigo metteremo questo piccolino in questo modo così e poi mettiamo anche questo piccolino qui perché qui voglio andare a mettere il lavello io di solito posiziono il lavello sempre sotto una finestra perché mi piace un po' come le case americane e poi mettiamo un finale da questa parte allora come vedete io sono andata sopra le finestre senza problemi come vedete da fuori poi alla fine non influisce più di tanto quindi andate tranquillamente anche sopra le finestre non vi preoccupate allora adesso andiamo a delinearci il resto degli spazi poi penseremo dopo a mettere elettrodomestici e quant'altro sappiamo che comunque lo spazio per metterli lo abbiamo quindi adesso andiamo a posizionare in questo punto la sala da pranzo in questo punto un piccolo salottino con la televisione e il divano e una poltrona e qui metteremo un camino allora cominciamo con il camino quindi andiamo in decorazioni scegliamo questo che è uno stile che va benissimo per la casa ok in questo modo ok poi andiamo a delinearci la sala da pranzo vedete è molto molto veloce come come metodologia dobbiamo solo avere ben chiaro ovviamente lo stile quindi aiutatevi sempre all'inizio soprattutto con le foto di pinterest quindi andate a digitare lo stile di cui avete bisogno e guardate le varie fotografie per ogni ambiente quindi se avete bisogno di una cucina moderna andate su pinterest e scrivete tranquillamente cucine moderne e rifatevi un pochino allo stile che vi propone la foto così imparerete piano piano a conoscere un po' i vari stili e andrete tranquillamente quindi io posiziono il mio tavolo da pranzo vado a scegliere le sedie e le voglio scegliere un pochino industriali e prendo queste nel colore di base in questo modo allora possiamo anche spostare un pochino così sempre con alt in modo che non stia davanti alla porta ok abbiamo posizionato anche il tavolo da pranzo quindi la sala da pranzo è delineata come vedete qui il passaggio c'è e adesso andiamo a mettere il nostro salottino quindi scegliamo il divano addirittura un divano di quelli grandi possiamo mettere come vedete lo prendiamo bianco io ragazzi vi sto scegliendo delle tonalità neutre per non ovviamente andare a mettere troppe cose in mezzo quindi magari poi ci aiutiamo a mettere un po' di colore con gli accessori quindi posizioniamo il divano possiamo anche mettere una poltrona e scegliamo quella della stessa serie questa sempre bianca la posizioniamo qui in questo modo la giriamo poi andiamo ovviamente a sistemarla così ok possiamo spostarla anche un pochino più in qua così perfetto adesso lo spazio che abbiamo tra il divano e diciamo la televisione è abbastanza piccolino ma c'entra comunque un tavolino centrale ovviamente non entrerà un mobile tv vero e proprio cosa possiamo fare? possiamo semplicemente andare a mettere delle mensole quindi andiamo in superfici mensole scegliamo le stesse mensole che abbiamo utilizzato qui perché ovviamente non ci vogliamo discostare dallo stile e le posizioniamo in questo modo così così e così seguiamo tranquillamente quello che ci fa fare lui perché va benissimo così e qua in mezzo posizioneremo il televisore andiamo a posizionare un piccolo tavolino basso e scegliamo questo perché ovviamente ci aiutiamo anche con alt in questo modo ok quindi lasciamo mi raccomando lo spazio al sim per accomodarsi andiamo a posizionare un piccolo mobile qui guardate le cose che entrano in questo piccolo spazio perché in realtà i sim non hanno bisogno di quegli spazi immensi a loro serve uno spazio ristretto per muoversi un po' per velocizzare a voi il gameplay un po' perché comunque gli spazi troppo ampi non servono praticamente a nulla a meno che non avete una famiglia di otto persone e quindi ovviamente avete bisogno di tanto spazio soprattutto per le camere non abbiate paura di riempire l'ambiente con le decorazioni perché le decorazioni se messe in modo intelligente non andranno ad influire sul passaggio dei sim quindi anche se non servono a nulla però abbelliscono ovviamente la casa quindi adesso passiamo ad alcune decorazioni io vi farò vedere allora vi farò vedere due decorazioni per la cucina una decorazione per il caminetto allora adesso io andrò a posizionare tutti gli elettrodomestici e quando arriverò al momento della decorazione ritornerò da voi ok ragazzi dopo aver messo un po' di elettrodomestici e qualche piccola decorazione andiamo a vedere quelle due decorazioni fai da te la prima sarà una mensola sospesa qui quindi in questo spazio qua sopra la penisola e un piccolo vassoio porta oggetti per ovviamente la cucina in questo spazio qui non vi preoccupate perché il sim ovviamente per cucinare andrà a appoggiarsi in questo spazio quindi andiamo a fare la nostra mensola sospesa andiamo a prendere in superficie una mensolina semplice la mettiamo marrone anzi la mettiamo bianca la ingrandiamo con il tasto virgoletta i accentato in questo modo e la tiriamo su con il 9 vedete piano piano la mensolina sale andate a controllare che sia posizionata diciamo abbastanza centralmente che non dia fastidio al mobiletto in questo modo e la posizioniamo così ok possiamo anche abbassarla forse un pochino quindi andiamo a farla scusate risalire così ok controlliamo sempre mi raccomando ok così e adesso vi faccio vedere anche come si entra nel debug quindi io ho già inserito il mio trucco per aprire diciamo il debug mi posiziono sulla barra di ricerca e scrivo debug ok scelgo dalla lista quindi vado a scegliere dalla lista in questo modo un'altra cosa che possiamo fare è andare a filtrare gli oggetti in questo caso adesso lo facciamo subito quindi filtro gli oggetti per pack e voglio il solo quelli del gioco base come vedete ovviamente elimina anche il menu normale do l'ok scusate scrivo debug scelgo dalla lista e vado a cercare come vedete nel debug ci sono degli oggetti che altrimenti non sarebbero accessibili le macchine non funzionano sono solo di decorazione quindi andiamo a scegliere adesso vi faccio vedere due oggettini molto carini che aiutano tantissimo per fare queste cose un po' sospese andiamo a prenderli dovete scendere un pochino eccoci siamo arrivati ok ci sono queste diciamo questi tronchetti di legno e a differenza di altre cose del debug come potete vedere si può scegliere la colorazione in questo modo abbiamo quattro colori verde bianco nero e grigio quindi noi andiamo a scegliere il grigio prendiamo l'asticella diciamo più piccolina vedete è proprio una piccola asticella di legno altrimenti c'è questa grande ma non ci serve quindi prendiamo questa piccolina ci andiamo a posizionare scusate la giriamo con punto due punti in questo modo ci posizioniamo dentro la nostra penisola e saliamo con il tasto 9 andiamo su vedete che interseca e ci posizioniamo la posizioniamo scusate in questo modo diciamo come se fosse proprio una barra che sorregge la mensola controlliamo su che non siamo andati a finire oltre quindi se abbiamo invaso il pavimento del piano di sopra e facciamo lo stesso dall'altro lato perché ne dobbiamo mettere almeno due per rispettare un pochino quanto meno le leggi della fisica quindi così ok e la posizioniamo cerchiamo di essere un po' simmetrici non è facilissimo però piano piano ci si riesce in questo modo ecco qui quindi noi abbiamo una mensolina dove poter appoggiare sopra degli oggettini senza andare ad invadere lo spazio per cucinare del cinema ok quindi questa è la prima decorazione adesso andiamo a crearci la decorazione faremo un piccolo vassoietto per mettere sopra degli oggettini per la cucina allora torniamo al menu normale come torniamo al menu normale semplicemente prendo la tendina andando su decorazioni togliendo il filtro del gioco base ritornano tutti gli altri oggetti questo potete anche lasciarlo così allora adesso a me servono le superfici andiamo su altro andiamo a scegliere questo tavolinetto piccolino qui lo prendiamo marrone questo ci posizioniamo all'interno del nostro mobile questo perché perché è attivato un trucco che se voi nell'altro tutorial siete andati a vedere la lista dei trucchi conoscete molto bene quindi lo tiriamo su con il 9 in questo modo fino a farlo uscire di poco così e lo posizioniamo qua ok questo è il nostro vassoietto qui sopra adesso andremo a posizionare qualche oggettino che serve per diciamo cucinare quindi andiamo a decorazioni possiamo metterci ad esempio vediamo andiamolo a cercare il contenitore con i mestoli sempre ok quindi non si trova e lo andiamo a cercare eccolo qua mi era sfuggito ok come vedete si posiziona anche da solo lo andiamo a rimpicciolire un pochino così ok vedete e andiamo a mettere anche altre cosine che magari possono essere utili sopra ci possiamo posizionare ad esempio le spezie quindi questo è molto carino così in questo modo e perché no magari mettiamoci anche una piantina mettiamo questa rimpiccioliamola scusate rimpiccioliamola un pochino in questo modo allora siccome non mi piace qua ma se non ho la libertà vedete di muoverla dove mi pare vado a levare il mobile della cucina lo sposto un pochino e questa adesso io me la posso posizionare dove voglio quindi io la voglio qui così lasciamolo libero questo fin quando non abbiamo terminato magari posso metterci un vasetto di olive che diciamo non guasta giusto per riempire un pochino lo tiro su ora andiamo ovviamente a rimpicciolire in questo modo e ce lo posizioniamo dove vogliamo ad esempio così possiamo andare a prendere anche il rotolo di scottex che abbiamo qua purtroppo dovete cercare 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 ok qua andiamo a spostare questo questo lo spostiamo e lo mettiamo qui in questo modo anche un po' più qua volendo la piantina ce la spostiamo qui questo lo spostiamo di qua ok e abbiamo fatto il nostro ovviamente ragazzi questo è solo un esempio il nostro vassoietto ok e queste sono le decorazioni per quanto riguarda la cucina adesso vi faccio vedere una decorazione molto carina per sopra il camino allora andiamo a prendere uno specchio prendiamo prendiamo questo no questo ok lo tiriamo su con il nove in questo modo perché se no è troppo basso anche forse un pochino di più vediamo prendiamo lo specchio vi faccio vedere due tipologie poi andiamo in decorazioni da muro e allora la prima cosa che vi faccio vedere è con la ghirlanda andiamo a scegliere una ghirlanda chiara la ingrandiamo in questo modo e la andiamo a posizionare sopra il nostro specchio come vedete abbiamo creato uno specchio incastonato scusate in una ghirlanda che è comunque una decorazione diversa e molto carina l'altra tipologia di decorazione che possiamo fare sempre con lo specchio è andare a prendere quindi togliamo questo questa diciamo decorazione da da parete sempre bianca e la andiamo a posizionare esattamente come la ghirlanda in questo modo quindi come potete vedere potete scegliere voi che tipo di decorazione applicare al vostro specchio ok allora per quanto riguarda le decorazioni abbiamo terminato adesso io andrò ad arredarmi il resto della della casa e poi ritorno da voi e poi Grazie a tutti. 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 L'open space è sicuramente la soluzione migliore quando si hanno degli spazi piccoli, ovviamente più sono piccoli gli spazi più è meglio avere degli ambienti aperti, quindi meno pareti. L'unica cosa che ho fatto è stato aggiungere una parete qui mettendo sempre ovviamente la trave e le colonne in modo da dividere diciamo un pochino in questo modo. Come potete vedere ecco qua come si presenta l'ingresso della nostra casa. Avete subito un bel colpo d'occhio. Ok. Vedrete che andando avanti diventerete sempre più bravi. Vi ripeto all'inizio aiutatevi tanto con Pinterest per scegliere lo stile della casa. Ok, per oggi è tutto ragazzi. Mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere le novità e se questo video vi è piaciuto lasciate un like e correte a vedere gli altri tutorial. Io vi ricordo che per qualunque domanda potete commentare qui su YouTube oppure in privato sul mio canale Instagram. Ci vediamo al prossimo tutorial sulla zona notte. Ciao!